allora cari amici questo non è un video buonista sapete che io non sono un buonista tutt'altro se volete un video buonista non statemi ad ascoltare in ogni caso il servo milionario oliviero toscani non è più utile ai benetton è diventato inutile o addirittura dannoso e come tutti i buoni servi viene messo alla porta rapidamente nel giro di 24 48 ore viene chiuso il rapporto lavorativo che lo legava da molti anni ai benetton per quanto mi riguarda non gioisco ma non me ne frega assolutamente niente nessuna solidarietà a oliviero toscani che rimane quello che rimane quello che ha detto lui in trasmissione nella trasmissione radiofonica è veramente una cosa di una gravità assoluta di cui questo essere dovrà vergognarsi fino a quando starà al mondo e non me ne frega neanche niente del suo futuro magari finirà come certi pugili che hanno guadagnato cifre enormi nelle loro carriere e poi sono finiti in miseria del resto questo paragone con i pugili mi sembra ci possa stare perché spesso i pugili sono suonati come si suol dire per i traumi che subiscono e quanto ad essere suonato credo che oliviero toscani non sia secondo a nessuno il suo micro cervellino è partito per la tangente ma questo non lo giustifica in nessun modo quindi per quanto mi riguarda potrebbe anche crepare morire di fame o vivere da barbone gli ultimi anni che gli rimangono non me ne fregherebbe assolutamente nulla e anzi spero proprio che i 5 stelle non gli vogliano non gli vogliano dare in futuro il reddito di cittadinanza oliviero toscani te la sei cercata sei quello che sei continua a vergognarti e vai al diavolo e e e Grazie.